Ciao ragazzi, ciao cari amici di My Trip Channel, sono qui quest'oggi, questo è un piccolo vlog, lo chiameremo blog special Formentera, come potete vedere alle mie spalle c'è un mare spettacolare. Oggi ci troviamo qui a Formentera nella playa del Sesilletes, è una delle spiagge in assoluto più belle di tutta Formentera, spiaggia molto selvaggia, praticamente si viene a Formentera o se si va anche ad Ibiza, almeno un giorno in questa spiaggia bisogna venirci, è un posto spettacolare e ora ve lo faccio vedere, guardate che roba. Grazie a tutti! Spiaggia completamente bianca, qui ci si abbronza di brutto e io sono ovviamente sto lavorando, voi direte come ovviamente sto lavorando, sì, ho il mio fantastico gruppo e quest'oggi siamo qui, anzi saremo qui tutta la settimana e vi farò vedere anche altri vlog e altre spiagge. Cari amici, dopo vi faccio vedere, mando anche qualche foto, ok? Vi saluto a tutti, se il piccolo video vi è piaciuto mettete un like, condividete importantissimo e se non lo avete già fatto iscrivetevi al mio canale, non mancate, ci vediamo presto con altri mini vlog di Formentera, ciao! 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 Ciao!